Il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, ha firmato un'ordinanza di sgombero del CAS, Centro di Accoglienza e Soggiorni Immigrati, che si trova nella frazione di Castellana a causa del sovraffollamento della struttura. La situazione è emersa in seguito a un controllo eseguito dal Dipartimento Prevenzione della Asla di Pescara. Il Comune fa sapere che la struttura prevede una ricettività massima di 9 persone, invece erano 14 presenti, condizione che, secondo quanto certificato dagli ispettori dell'Asla, aumenta notevolmente la possibilità di trasmissioni di malattie infettive che si possono trasmettere per vie aerei, come spiega anche il sindaco Marinelli. Purtroppo abbiamo ricevuto un verbale dell'As, servizio ispettivo, che ha certificato una recidiva da parte dell'Asp di Pescara, che gestiva il CAS di Castellana di Pianella, col quale si evidenziava un sovraffollamento. Già nel 2018, questa volta, nel 2018 era stata la Polizia Municipale a rilevare un sovraffollamento più consistente di 22 persone, al quale era seguito un provvedimento amministrativo analogo, impugnato davanti al TAR da parte dell'Asp stessa. Questa volta l'accertamento è stato fatto dalla As, che ha questa volta però evidenziato un'ulteriore problematica, cioè il pericolo di potenziale trasmissione di malattie per via aerea, per cui l'ordinanza contingibile ed urgente era un atto dovuto per prevenire appunto questo pericolo segnalato dal servizio ispettivo As e da lì poi la decisione di prefettura e gestori della struttura stessa di chiudere il centro e di spostare gli ospiti altrove. Il Comune ha potere in tal senso? Beh sì, questa è stata proprio la vicenda che ha dato vita al ricorso al TAR del 2018 da parte dell'Asp che contestava il potere dell'amministrazione comunale di controllare e far rispettare le regole anche all'interno dei CAS. Il TAR ha accolto l'impostazione dell'amministrazione comunale ribadendo che c'è il pieno potere dei sindaci sotto il profilo urbanistico e igienico-sanitario per cui questa vicenda conferma questa impostazione, cioè la ASL nell'ambito delle competenze proprie e dietro sollecitazione del Ministero dell'Interno ad eseguire periodicamente i controlli su questo tipo di strutture ha rimesso la relazione evidenziando il sopraffollamento e trasmettendo al sindaco per competenza il verbale affinché adottasse i provvedimenti conseguenziali.